Il nostro istituto è situato nel territorio della Valpolicella, nel comune di San Pietro Incariano. Esso è ospitato in due diversi edifici, uno in San Pietro, centro, e l'altro a San Floriano. Il nostro istituto presenta un'offerta formativa molto ricca e variegata, essendovi otto indirizzi di istruzione secondaria e superiore. Abbiamo quattro licei, scientifico, scientifico delle scienze applicate, linguistico e scienze umane, e abbiamo quattro indirizzi di istituto tecnico, istituto tecnico amministrazione, finanza, marketing, istituto tecnico turistico, istituto tecnico sistemi informativi aziendali e abbiamo un istituto tecnico industriale, indirizzo CAT, costruzione, ambiente e territorio. Il nostro istituto, che ospita 1300 studenti, si trova ad affrontare, come tutte le scuole attuali, una serie di sfide. Noi partiamo dal bisogno dei ragazzi, per cui la nostra prima sfida è quella di creare un benessere all'interno dell'istituto e negli studenti stessi. Quindi molte delle nostre risorse sono indirizzate all'accoglienza e al progetto dello star bene a scuola. Dal punto di vista dell'offerta formativa, noi cerchiamo poi di lavorare con il territorio e nel territorio, perché siamo proprio una scuola del territorio. Di conseguenza, per quanto riguarda tutto quello che può essere professionalizzante, ci relazioniamo con le aziende che sono presenti, con gli enti locali, con cui ci rapportiamo con costanza e regolarità, e con le aziende presenti del terzo settore. Questo anche perché, avendo otto indirizzi, cerchiamo di accontentare e di formare i nostri ragazzi a tutto tondo e in tutti i settori, che possono essere in qualche modo interessati alla nostra offerta formativa e ai nostri percorsi scolastici. Stiamo anche lavorando molto sull'internazionalizzazione. La voglia di fare qualcosa di utile e di buono per i nostri ragazzi, per la nostra società, per il nostro futuro, per il futuro dei nostri ragazzi, per cui io penso che serietà, impegno, costanza, professionalità non possono far altro che far crescere la società e il mondo.